La realizzazione di un sogno può dipendere da tantissimi fattori, però sembra che ci sia un aspetto che accomuna tutte le persone di successo o quasi. Qualcosa che è stato definito da Carol Dweck con il termine growth mindset, ossia mentalità dinamica. Le persone che coltivano questa mentalità sono convinte che intelligenza e capacità in qualunque campo possono essere coltivate e dunque acquisite nel tempo, attraverso però ovviamente un impegno costante. L'opposto di questo approccio è la cosiddetta mentalità fissa, quella di chi è convinto che non ci sia alcuna speranza o possibilità di cambiare. Se un mindset dinamico non offre alcuna garanzia di successo, ovviamente non ci sono garanzie, una mentalità fissa però è fallimento assicurato e il motivo è molto semplice. Le persone con un mindset fisso rinunciano in partenza, convinte che sia tutto immutabile, tutto già scritto, incluse le loro potenzialità e quindi non si mettono mai in gioco. Al contrario, chi ha un mindset dinamico guarda gli errori come ad una componente inevitabile del percorso. Per questo ho meno paura di uscire dalla propria zona di comfort, in quanto non si identifica con eventuali fallimenti che sicuramente arriveranno, ma con il coraggio di rialzarsi per provare di nuovo. Mi piace chiamare questo modo di vivere beta permanente. Nel mio lavoro mi trovo spesso a collaborare con app developer e una cosa che all'inizio non riuscivo a capire era perché diavolo fossero sempre entusiasti di lanciare qualcosa in beta. Per me era davvero inconcepibile. La conversazione andava più o meno così. Ceci, grandi notizie, stiamo per lanciare la versione beta di XY oggi e io, uhu, yeah, ok. Quindi mi volete dire che oggi lanciamo la versione ancora imperfetta, piena di problemi che poi dovremo tra l'altro giustificare ai nostri clienti. Yeah, non vedo l'ora! Solo col tempo ho capito che la fase di beta era essenziale per migliorare e soprattutto che sarebbe continuata anche dopo che fosse uscita la cosiddetta versione ufficiale dell'app, inaugurando un perpetuo stato beta. Ora immagina cosa succederebbe se riuscissimo ad applicare questo perpetuo stato beta alla nostra vita. Quanto più semplice diventerebbe superare la paura di provare qualcosa di nuovo, fregandosene altamente del giudizio degli altri, se per caso non dovesse riuscire. In fin dei conto basterebbe un, bah sono in beta, la prossima versione andrà meglio. Sono stata convinta per anni di non essere affatto tagliata per il mondo dell'imprenditoria in generale, meno che mai digitale, che non potevo competere con chi era nato per gestire un'attività e che qualunque ostacolo sarebbe stato insormontabile. Piano piano, osservando diverse persone che stavano già percorrendo questo viaggio, ho capito che non ero la sola a dover affrontare sfide di continue e soprattutto che quelle sfide, quegli ostacoli erano esattamente quello che mi serviva per sviluppare le abilità che mi mancavano. Ora, da qui a dire che non mi lascio più scoraggiare dalle difficoltà, ce ne passa magari, ma almeno ora so che se anche qualcosa non mi riesce, non vuol dire che sono difettosa, negata o limitata, semplicemente che devo cambiare qualcosa nel processo che ho seguito e questo è vivere in beta permanente. Ora un conto dirlo, un conto farlo, sarà difficile riuscire sempre ad applicare questo approccio alla nostra vita, però il solo fatto di sapere che fare errori non solo è concesso, è necessario per riuscire a migliorarci e a cambiare, è un vero sollievo, almeno per me, non so tu che ne pensi. E allora solleviamoci a vicenda nei commenti qui sotto il video, se anche tu sei pronto ad abbracciare un nuovo mindset, un mindset aperto al cambiamento, al fallimento e alla crescita, condividi con me la frase qui sotto, sono in beta. Imparare a vivere in beta è un viaggio che dura una vita e questo è il tuo primo step e quindi anche il più importante. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su geciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo braccio di luce.